Grazie Presidente, molto meno anche perché la Presidente Zotta ha spiegato molto bene la razza di questa delibera e l'importanza di questa delibera. Mi preme fare una sottolineatura rispetto a tutto quello che è già stato detto. Queste centinaia di lavoratori che verranno assunti da Roma Capitale sono dentro il piano assunzionale e per stare dentro il piano assunzionale vuol dire che ci stanno i fondi per poter fare questa cosa. Questa è stata l'azione vera di cambiamento che c'è stato rispetto al passato. Io concordo con tutti coloro che sono intervenuti a favore di questa proposta di delibera perché effettivamente è uno sfondare una porta, è invertire una rotta, è cercare di far capire che un profilo così importante come questi lavoratori svolgono debba essere effettuato alle dipendenze di Roma Capitale. Sì, sono qualche centinaia, serve molto di più. Ora, quando ci saranno gli ulteriori fondi si potrà fare, ma intanto abbiamo aperto la porta, anzi l'abbiamo sfondata la porta, che da troppi anni questi lavoratori cercavano di sfondare e non ci riuscivano, per cui accolgo e accogliamo come Movimento 5 Stelle molto favorevolmente questa proposta di delibera della Presidente Zotta e la ringrazio per lo straordinario lavoro che ha fatto per far sì che questa cosa possa andare avanti. Grazie.